In furia la polemica qui a Caorso nella bassa piacentina per il pagamento della Tares, l'amministrazione comunale infatti ha inviato a tutti gli abitanti un bollettino già scaduto da qualche giorno. Polemiche a Caorso per il saldo 2013 della Tares, numerosi cittadini si sono infatti rivolti ad alcuni movimenti civici di opposizione per denunciare un vero e proprio caos creatosi intorno alle comunicazioni inviate dal comune. Il documento contabile, sottoscritto direttamente dal sindaco e datato 14 novembre 2013, è stato recapitato nelle case dei Caorsani a fine anno. Alcuni addirittura l'hanno ricevuto nei primi giorni di gennaio. Peccato però che la scadenza comunicata al suo interno era fissata per il 30 dicembre 2013. Un grossolano ritardo che ha determinato lo smarrimento dei cittadini, chi si sono visti recapitare una bolletta di fatto già scaduta. Il bollettino è arrivato al 30 con scadenza imminente e di conseguenza i Caorsani che rispettano le regole sono andati, hanno fatto anche code lunghissime all'ufficio postale per pagare questo bollettino nel timore di infrazione, insomma questo fa rabbia. Se poi avviene da un'amministrazione che tutti i giorni è sulla stampa per vantare il proprio operato e commette una leggerezza simile, dimenticandosi proprio dei propri cittadini, insomma la cosa fa rabbia. L'amministrazione comunale ha tentato di rimediare alla figuraccia diffondendo nei negozi del paese un volantino pubblico in cui si afferma che gli avvisi di pagamento sono pervenuti in ritardo per cause non imputabili al comune. L'assessore al bilancio Marina Barbieri, raggiunta telefonicamente oggi dalla nostra redazione, ha confermato tale tesi addebitando le responsabilità del ritardo alle poste italiane. Ma non solo, proprio a causa di tale disguido, la scadenza del pagamento della Tares, si legge nel volantino, è slittata al prossimo 31 gennaio, un tentativo di rimediare il caos che però, secondo l'opposizione, penalizza chi ha già pagato la Tares con un mese di anticipo rispetto alla nuova scadenza. Noi siamo stati sollecitati da più parti, dai nostri concittadini, a prendere posizione sul saldo Tares. L'amministrazione comunale ha dichiarato che non è imputabile a loro la responsabilità di ritardi di servizi da parte del bollettino del pagamento del saldo della Tares, imputando alle poste italiane questo disservizio. Però altresì esponenti dell'amministrazione hanno dichiarato via web che già il giorno 14 novembre era arrivato nelle poste l'avviso di giacenza di pagamento della Tares. In tal data sapevano già del disservizio che ci sarebbe stato. Ma l'amministrazione si è attivata solo ed esclusivamente verso la fine dell'anno a dare questa informazione. Per cui se non è colpa dell'amministrazione di chi è colpa? Una cosa è comunque certa. A Caorso la questione Tares sta creando non poche tensioni all'interno degli schieramenti politici. In primavera, infatti, qui si terranno le elezioni comunali e il confronto sembra già essere entrato nel vivo. A cominciare dalle forze politiche di opposizione, divise tra coloro che siedono in Consiglio Comunale e colori invece che si stanno organizzando fuori dal palazzo. Molti cittadini hanno capito, visto che si sono appellati alla minoranza e non hanno avuto risposta, che l'unica sponda per i cittadini noi siamo la vera minoranza.